Musica Signori ben ritrovati, nuovo episodio con il Grifone qui nella nostra carrenatore su Vivo23 ma prima di cominciare la vedete anche voi la maglietta del Valencia questo per quale motivo? Perché sarà la nuova carriera allenatore che faremo su Vivo23 quando? Tra qualche giorno in concubitanza con l'inizio delle vacanze natalizie nuova carriera con il Valencia in Spagna al Mestaia continuerà il Genoa? Assolutamente sì perché mi hanno detto che ci sarà anche un'altra stagione con il Grifone quindi non preoccupatevi sarà semplicemente un contenuto in più ed a proposito di contenuti come avete notato in queste settimane soprattutto nel weekend sto portando dei nuovi format quello sulla tattica ci saranno poi altre tattiche di altri allenatori ma soprattutto le rebuild il video con lui United sta andando direi molto bene stavo pensando ragazzi siccome sono state tante le richieste con la Juve con una rebuild bianconera ma se questo contenuto lo portassi in live e poi da quella live ci si va ad estrarre un po' le parti migliori e lo si porta qua su YouTube con un video montato non troppo lungo vi potrebbe interessare come idea? fatemelo sapere qui sotto nei commenti in modo tale anche da rendere il tutto un attimino più interattivo a coinvolgervi di più e quindi leggere i vostri consigli e anche poi ascoltare quelle che sono le mie idee riguardo un eventuale rebuild con i bianconeri ma torniamo finalmente a parlare di Genoa parliamo di Alessio Ricci nuovo elemento preso dalla primavera giocatore che probabilmente inizierà a giocare già da questo episodio perché il primo confronto sarà appunto col Venezia partita sicuramente facile partita assolutamente da vincere partita però non affatto diciamo così scontato come risultato almeno sulla carta è stato scontato ma poi il campo sappiamo che a volte parla diversamente su Ricci stiamo già attuando un piano di crescita giocatore che non presenta una scheda eccezionale momentaneamente adesso all'invertita poi vedremo magari di andare su altre tipologie di ruolo ma di sicuro lo si va a promuovere in prima squadra e quindi signori possiamo iniziare come ho detto prima partita in casa contro il Venezia in realtà mi corrego in casa del Venezia fatto sta ragazzi che mancano poche partite al termine di questo campionato non è ancora certa la nostra presenza nella conference o Europa League perché la distanza da quelle posizioni è nulla cioè siamo tutte lì sono tutte attaccate può succedere ancora di tutto ma il Genoa in questo finale di stagione probabilmente potrebbe avere un calendario un attimino più semplice rispetto alle altre adesso Venezia sì la prossima sarà contro il Milan ma ci aspetta poi un finale di stagione sicuramente con squadre un attimino più alla portata e quindi ragazzi vediamo di iniziare subito bene vediamo di portare a casa i primi tre punti forza ragazzi lavoro da parte di Cambiaso ma soprattutto quello da parte di Iliott il pallone però non è stato diciamo comodissimo per Arviglio tazione che si va un pochino così a spegnere intanto attenzione all'intervento di Woodmondson ecco Fred brutto intervento brutto intervento speriamo che non dia rosso qua ok ok soltanto avvisato il capitano del Genoa Wheeler il destro in due tempi Semper va bene la voglia di conquistare i tre punti va bene la voglia di iniziare subito alla grande però andiamoci piano qua con i contrasti a proposito dei contrasti attenzione perché c'è l'ottimo ricopropala da parte del Venezia l'attenzione Wheeler ci impiega un po' prima di andare a calciare poi serve il compagno e poi l'ottimo intervento in chiusura da parte di Frendrup largo per Ullman e si ingosso di lui lo tiene riesce anche a disturbarlo poi attenzione a Fred l'impostazione non perfetta anzi tutt'altro perché è praticamente un assist per i giocatori del Venezia meno male che il Genoa la difesa mette una pezza proviamo a ripartire Satriano Fred il pallone è buono attenzione Iliott porta scoperta Iliott prende il palo occasionissima questa per il Genoa con Arviglio non è finita Goodmanson prova a piazzarla tiro che viene deviato attenzione e c'è alla fine il gol di Fred il Genoa passa in vantaggio al minuto 32 cosa abbiamo visto ragazzi in questo minuto il palo di Iliott praticamente con nessuno in porta e poi l'azione che ha continuato con Fred che non sa neanche lui come si ritrova la palla lì differenza di Iliott davvero lì non poteva sbagliare il tiro deviato poi Fred tiro assist praticamente di Goodmanson Genoa in vantaggio occhiali in piena emergenza tranquilli non preoccupatevi anche perché so di essere abbastanza impresentabile poi lui dice vabbè se è impresentabile comunque non è che questi occhiali cambiano qualcosa in effetti avete ragione comunque Grifoni in vantaggio 1-0 grandi ragazzi cerca Cambiaso contatto si gioca invece poi alla fine c'è fallo c'è calcio in punizione per il Genoa ma attenzione perché pronto il primo cambio il debutto di Ricci con la maglia del griffone al posto di Iliott Ostigard Ricci primo pallone giocato con i grandi Goodmanson ecco Andrea Cambiaso che entra dentro l'area di rigore Cambiaso se allunga forse un po' troppo il pallone teso e deve soltanto piazzarla e lo fa 2-0 Genoa ha segnato Singo 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 così 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 nuovo coro del 33 per il 33 che non mette la parola fine sicuramente a questa partita ma importantissimo il raddoppio trovato del Genoa al minuto 65 Ricci palla per Frendrup che cerca Satriano in verticale lo trova attenzione Martin Satriano ci prova comunque col sinistro serve un super intervento a parte del portiere del Genoa 8 marzo intanto sarà Genoa-Milan infronto molto complicato Wheeler Venezia con il tentativo in questo affondo finale grandissimo intervento a parte di Schemper poi mi chiede che fine ha fatto Martinez con un Schemper così è difficile far tornare a titolare Martinez intanto attenzione perché il Genoa prova a ripartire velocemente il pallone però non perfetto questo per Tony Lato e finisce qui Venezia 0 Genoa 2 prima vittoria primi tre punti ed un Genoa convincente convincente vediamo se lo sarà anche la classifica sappiamo insomma che il distacco non è elevato siamo attualmente fuori dall'Europa ma siamo a pari punti con il Napoli e siamo a meno 4 dalla Roma meno 4 anche dall'Atalanta stiamo vivendo un ottimo momento stiamo vivendo un periodo dove il morale è alto i risultati stanno arrivando vediamo una squadra che comunque è in forma e non è scontato questo anche perché la gestione poi dei cambi secondo me è ottima e non va troppo a compromettere il risultato adesso Milan contro le grandi ragazzi dobbiamo fare un passo indietro meno giocate rischiose tentare di meno la giocata essere meno offensivi meno spregiudicati perché sì ci piace vedere un Genoa ultra offensivo che va a pressare va nei contrasti tutto come abbiamo visto anche nei primi minuti col Venezia però contro il Milan il discorso cambia perché la qualità è inevitabilmente più alta quindi in campo così contro i rossoneri non cambiamo la formazione però cambieremo l'atteggiamento che è quello che potrebbe rendere anche la partita meno spettacolare ma magari anche più bella con il risultato poi finale a differenza dei precedenti incontri contro i rossoneri nati da Stefano Pioli che è appunto Blessing che segue l'allenamento a pochi minuti dall'inizio della partita forza ragazzi il Milan ci prova il concetto di rischiare di meno è quello di non andare intanto però attenzione perché qui dobbiamo per forza farlo il passaggio poi per Guendosi attenzione il tiro mamma Schemper ed è proprio questo che stavo dicendo che stavo per dire in realtà sul concetto di rischiare di meno cercare di attendere un po' di più di non andare subito a contrastare e andare addosso agli avversari perché questi giocatori hanno un dribbling elevatissimo ci possono saltare con estrema facilità Hernandez il passaggio De Ketelare è qua ragazzi però questa squadra questa squadra ha quel qualcosa in più e CDK ancora una volta come in Coppa Italia trova la rete il vantaggio Milan e mostra appunto tutto fiero il suo numero 90 è inutile fare tutti quei discorsi sul rischio mica rischio perché poi alla fine il Milan va comunque in vantaggio ed è un Milan che attacca 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 ancora i rossoneri provano a piazzarla gran sabotaggio a parte di Schemper e il Genoa prova a ripartire velocemente però Goodmanson decide di non affrettare la giocata e quindi va ad allargare il gioco c'è Singo su di lui vicino lui bravo intanto Goodmanson qui col dribbling vabbè la palla questa per Freda attenzione perché Satriano è tutto solo Satriano mamma mia signori al Ferrari si girano la pareggia al minuto 22 con il 9 con Martini Satriano azione perfetta questa in contropiede anche se è stato bravo Goodmanson perché ha deciso di rallentare un attimo puoi provare ad andare da sola ad allargare il gioco ad aprire poi gli spazi là davanti con l'inserimento perfetto di Satriano qua grande poi invenzione per Freda poi il passaggio perfetto e poi la lucidità del 9 che non sbaglia Ostigard magari perché no e magari solo far così solo andare in contropiede contropiede rapido diretto intanto attenzione perché a proposito eccolo il lancio Goodmanson Goodmanson attenzione perché se l'era spostata sul sinistro però il Milan che quando attacca in quella zona di campo è sempre molto pericoloso Frendrup non deve perdere il pallone allora il Giona può ripartire velocemente in contropiede ecco Morten Frendrup che serve Goodmanson poi attenzione al movimento da parte di Satriano lo andiamo a pescare cerchiamo anche di mettere pressione alla difesa rossonera però meglio secondo me fare così piuttosto che poi magari fare quel passaggio in più scomodo che potrebbe pregarci e far ripartire poi eventualmente in contropiede i rossoneri a Medvedic Cucureia il pallone ancora che rimane lì il passaggio e poi sempre no 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 ho cliccato tutto ho cliccato tutto era fuori gioco meno male ragazzi meno male meno male ho messo in pausa ma per sbaglio qui ci ha graziato il piede sinistro di Rafinha che era in posizione non regolare palla per Nakai che potrebbe piazzarla Nakai lo scambio De Ketelare poi ancora De Ketelare Schemper Schemper dice ancora di no Genoa salvo De Ketelare lo scambio Rafinha sinistro salva di nuovo Schemper Nakai ancora sulla tre quarti Wendozi di nuovo Nakai il passaggio attenzione Rafinha De Ketelare 2 a 1 sfortunato quel Genoa con Amedozic nel replay ci renderemo conto subito del fatto che Amedozic probabilmente ha avuto il pallone per una frazione di secondo ma non è riuscito proprio a controllarla probabilmente c'è stata anche una deviazione particolare andiamo qui a rivedere esattamente qui esattamente qui perché aveva anticipato Rafinha poi in qualche modo la palla comunque rimane al 9 che riesce a servire nuovamente di Ketelare che nuovamente di prima Buka Schemper è 2 a 1 quindi Mendozzi De Ketelare Leao è ancora Semper Rafinha Le Mar e c'è addirittura il terzo gol la chiude Le Mar come spesso accade quando subiamo poi un altro gol la squadra si spegne qui un Le Mar versione Gudmanson derby contro il Doria ed è festa da parte di Rossoneri finisce qui si può lodare l'atteggiamento del Grifone un po' meno quello che poi abbiamo effettivamente visto in campo ottimi fino al pareggio poi però questa squadra ragazzi è difficile è difficile perché poi ci schiacciano tutti quei passaggi veloci quegli scambi sono giocatori molto intelligenti molto tecnici molto bravi e il gol alla fine poi arriva Schemper ci ha salvato per più occasioni potevamo perdere con molti ma molti più gol salteremo la partita contro il Sassuolo per poi giocare la partita più importante dell'episodio contro la Fiorentina doppietta di Super Martin Satriano già tra i gol nelle ultime due partite è tornato il fenomeno Satriano direi proprio di sì poi magari a fine episodio torneremo nel Lab della Rosa per vedere un po' anche la crescita lo sviluppo dei nostri giocatori e magari riusciremo anche poi a riscattare Satriano perché se ben ricordate a gennaio ci abbiamo provato ma l'opzione per il riscatto non c'era completamente sparita Fiorentina Genoa Genoa Fiorentina al Ferraris come all'andata questa è una partita che significa Europa significa Conference significa Europa League significa spettacolo perché negli ultimi due confronti pochi gol ma partita spettacolare vediamo di ripeterci con la differenza però che a sto giro voglio vedere un Genoa vittorioso contro la Viola in campo così tra l'altro ce lo siamo scordati di dire questa cosa all'andata ma questa Fiorentina in difesa ha un certo Calidu Coulibaly cioè che nonostante l'età nonostante tutto sempre di tolare ed è un nuovo acquisto della Viola guarda lì il guardaline che passa davanti al giocatore ed eccolo lì Coulibaly con la 4 subito occasione per il Genoa con questo calcio d'angolo Fred sul pallo lontano Ostiger non ci arriva schema ormai che non funziona praticamente più Ruskin carica la conclusione tiro però che viene deviato allora attenzione quella ripartenza con Icone Fiorentina molto rapida soprattutto con questi giocatori Jonathan David non ne avevamo probabilmente commentato non ne avevamo parlato anche perché mi sa che è uno degli ultimi acquisti di gennaio quindi una Fiorentina che si rinforza ulteriormente mamma mia signori cosa ha combinato Icone ritmi sin da subito esagerati ecco il giro palla diretto da parte della Viola di Italiano Traore ne salta uno però non salta Medosic il Genoa riparte non si respira un attimo signore l'avevamo detto come l'andata come l'anno scorso spettacolo tra Genoa e Fiorentina Singo apertura dall'altro lato per Cambiaso il controllo non è perfetto però arriva comunque il traversano in mezzo Jonathan David supera senza problemi Ostigar la conclusione è il vantaggio della Fiorentina al minuto 22 Hudson attenzione perché il pallone è buono per Fred la controllo Fred come colmina risposta immediata Fred oggi in versione Bomber sono già due gol che abbiamo visto a parte del nostro capitano però il Genoa preferisce rallentare un minimo Singo bella palla questa per Iliott attenzione il pallone è ancora buono Gudmanson Satriano che non è in posizione di fuorigioco Satriano l'aggancio perfetto attenzione Satriano Satriano destro il miracolo del portiere della Viola incredibile grande occasione per il Genoa al minuto 40 con Martín Satriano ed è cambio perché Cambiaso non è in condizione di continuare allora dentro Torilato Cornel Fiorentina al minuto 55 Fofana al posto di Malè tanto Koulibaly salva Schemper Fofana la conclusione della distanza Schemper stava per farsi sorprendere Gudmanson con Satriano che chiama palla poi l'apertura di prima per Singo il problema è che non c'è nessuno all'interno dell'area di rigore allora Singo deve andare da solo e allora proviamo a mettere pressione al portiere il disimpegno non perfetto allora quindi Ruskin colpo di testa Gudmanson palla che riesce ad andare giù allora lo scambio Singo Gudmanson niente da fare ragazzi ma è una battaglia assurda ad altissime intensità questa tra Genoa e Fiorentina vediamo appunto squadre che non si fermano poco giro palla pochi secondi al termine di questa partita e se la Fiorentina non riconquista palla probabilmente finisce qui infatti è così Genoa 1 Fiorentina 1 non bellissimi non bellissimi ancora una volta con la Fiorentina non si va oltre il pareggio è pazzesco davvero una squadra che non contro la quale non riusciamo a vincere contro la quale davvero ci ci fermiamo Fiorentina però ragazzi di di un livello assurdo là davanti Maxi Gomez Traoré Icone Fofanà Jonathan David sono tantissimi elementi di qualità in una partita dove vediamo un po' le statistiche tutto sommato giusto il pareggio anche se insomma la Viola ha avuto più possesso più dominio è stato che tutto sommato lo posso anche accettare Genoa Cremonese la partita che si salta 2-1 per il grifone Sanabria e Gudmonson permettono al grifone di vincere è sempre un rischio è sempre una paura saltare certe partite ma qualità della Rosa che comunque è aumentata quindi diciamo che in certe situazioni lo possiamo anche fare dopo il colloquio con Ruskin guardiamo intanto la classifica di nuovo Genoa al settimo posto con più 2 punti di stacco dal Napoli che però deve ancora giocare attenzione perché abbiamo un meno 2 dall'Atalanta e ciò significherebbe appunto Europa League e non Conference League meno 3 dalla Roma ma la Roma appunto deve ancora giocare squadra che ha già giocato la Fiorentina al quarto posto io però ragazzi non voglio parlare di Champions questa squadra non merita la Champions League sappiamo che la davanti Fiorentina e Roma ma la stessa Atalanta hanno quel qualcosa in più però ecco settimo posto sesto posto è una dimensione più da Genoa una dimensione che meritiamo sicuramente di più Abdelarosa non me ne sono dimenticato Ostigard comunque continua a crescere ha superato l'overall 80 grande Leo Ostigard meno 2 per Gigi ma Gigi non sta praticamente più giocando Frendrup anche lui sta migliorando Harvey Elliot sempre più fenomeno overall 84 Sanabria più 2 e già Ricci che comunque è cresciuto di 1 non vediamo delle crescite clamorose c'è anche da dire che siccome molti siamo vicini al loro massimo diciamo potenziale però vedremo manca ancora un mese e mezzo a termine della stagione magari qualche ulteriore crescita potremo appunto presto vederla 18 aprile segnatevi questa data prossimo episodio ci sarà una finale per andare in Europa perché sarà la partita più importante di sempre del Genoa poi è vero mancheranno altre partite ma ormai possiamo dirlo la partita con il Napoli rappresenta un match da dentro o fuori per andare in Europa in generale senza parlare nello specifico di Conference o Europa League prossimo potrebbe essere l'ultimo episodio della stagione o magari altri due vediamo un po' ragazzi probabilmente potremmo anche fare proprio un rush finale di sole partite tante partite per un Genoa che vuole assolutamente andare in Europa ma avremo diciamo le idee un attimino più chiare dal 18 sera dal 18 notte quando appunto si concluderà la partita tra Napoli e Genoa e vedremo appunto che risultato avremo appunto ottenuto al Diego Armando Maradona mi raccomando ragazzi supporto massimo questa serie perché siamo proprio gli sgoccioli di questo finale di stagione vi aspetto nel prossimo e decisivo episodio della carriera col grifone qui su Viva23